A voi sembra fantasia o fantascienza? Ritrovarsi attraverso Mario del Giglio. Voi pensate che esista solo la Terra e questo è comprensibile. E se noi diciamo che si possono fare altre esperienze per ritornare alla sorgente, a voi sembra fantasia o fantascienza? Ebbene, per me è così. Esistono varie forme di vita, corpi ed anatomie diverse. Ricordate? Il significato era questo. Si possono fare esperienze diverse per poi ritornare alla sorgente dalla quale siamo emanati. Ora non è che i mondi siano separati gli uni dagli altri. È sempre lo stesso concetto della spirale. Siamo punti con esperienze diverse. Pensate, quando si ha un sentire ampliato si possono fare viaggi astrali. Vuole dire che si possono visitare altri siti. Questo termine lo usate nel vostro vocabolario in internet quando vi inserite nel sito di Tizio o nel sito di Caio. Ebbene, l'avere ampliato il vostro grado di sentire vi permetterà di inserirvi in vari siti. E questi sono raggiungibili attraverso varie esperienze, ma tutte riconducibili alla sorgente dalla quale siamo emanati.